Stop alla didattica a distanza. Con questo messaggio ieri pomeriggio sotto il loggiato del comune di Pesaro si sono ritrovati per dare vita ad una manifestazione statica, consentita quindi anche in zona rossa e organizzata dal comitato Priorità alla Scuola, diversi genitori e studenti. Nelle Marche il blocco delle lezioni in presenza è partito dagli istituti superiori con le ordinanze regionali delle scorse settimane, mentre con l'ingresso in zona rossa tutte le scuole di ogni ordine grado sono dovute tornare alla formula della didattica a distanza. Le principali volontà e richieste mosse dai partecipanti della manifestazione, tra cui figurava anche qualche insegnante, sono rivolte alle istituzioni, poiché queste trovino soluzioni per riaprire in sicurezza le scuole e per garantire dunque la fruizione delle lezioni dal vivo. In tema di sicurezza è stata rimarcata la necessità di ampliare l'attività di controllo nelle classi, sottolineando l'esempio voluto e messo in campo dall'amministrazione comunale pesarese nel proporre per due volte, a distanza di circa un mese, uno screening che fotografasse lo stato di salute delle scuole indicando i numeri del contagio che si registrano all'interno dei plessi. Le molteplici difficoltà della didattica a distanza hanno ricordato i presenti, si ripercuoteranno ora anche sui più piccoli e sui genitori di questi ultimi, costretti a chiedere aiuto anche ai nonni e dunque anche a quella fetta di popolazione più esposta ai rischi del covid. Tanti i simboli lasciati davanti all'ingresso del comune per veicolare questi messaggi, tra cui cartelloni e diverse paie di scarpe, per rappresentare gli alunni dimenticati. Grazie. Grazie.